Il Kazirstan è stato distrutto e il varco è ora inaccessibile. Siamo l'unica nazione con accesso all'inframondo. La situazione apre a nuove strategie e a nuove prospettive militari. Attueremo nuovi programmi per scoprire potenziali risorse e sviluppare quindi applicazioni militari. Abbiamo già trovato il modo di legare le entità a soldati umani ed è solo l'inizio. La questione molto più importante dell'esplorazione spaziale o dello sviluppo nucleare. Abbiamo scoperto un nuovo mondo. Un mondo tutto da conquistare. Questo segna l'inizio di una nuova era per il nostro paese. Quelli del Pentagono ti hanno deluso? Erano tutti presi dai loro piani di dominazione del mondo. Non volevo disturbare. Abbiamo fatto la nostra parte. È un po' tardi per i rimpianti. Cosa farai adesso? Andrò il più lontano possibile da qui per provare a dimenticare il casino che è stata la mia vita. E tu che farai? Beh, la CIA ha pensato a sistemarmi. Stipendio, auto di lusso, partite a golf. Non ho ancora accettato, ma ci sto pensando. Senti, Jody, so che tra noi non è stato facile e io non ho agito sempre nel giusto. Ma forse possiamo ricominciare. Costruire qualcosa insieme. Dopotutto, quello che abbiamo passato forse ne vale la pena. Mi hai mentito. Non posso più fidarmi di te. Mi spiace, Ryan. Sì, capisco. Ma comunque vada. Ricorda che per te ci sarò sempre. Ah, eccoti qua. Nathan ti sta cercando. Vieni, ti accompagno in ufficio. Ciao, Ryan. Oh, a proposito. In ufficio c'è una bottiglia di ottimo scotch che ti aspetta. Ci vediamo là? No, grazie, ma no. E dai. Non farmi bere da solo. È un'ottima bottiglia. Ti vengo a cercare io, ok? Andiamo, Jody. Certe decisioni sono dure, eh, Jody. Preferirei non parlarne. Giusto. Non sono affari miei. Ma grazie per il pensiero, cool. Non sono affari miei. Ok, siamo arrivati. Quando finisci, verrò a prenderti. Ok. Qualsiasi cosa dica Nathan, sta attenta. Avanti. Già, lì. Che bello vederti in forma. Io ho fatto la mia parte. Adesso tocca la CIA. E per quanto riguarda la CIA... Tu non esisti più. Ora sei Elizabeth North. Nuova identità, nuova vita. Sono 500.000 dollari. Per i servizi che hai reso. Ti aiuteranno a ricominciare. Voglio una vita nuova. Non voglio qualche cosa che mi ricordi quella vecchia. Prima che tu vada... C'è una cosa che devo chiederti. Quando mia moglie e mia figlia sono morte nell'incidente quindici anni fa... Anch'io volevo morire. Ho pianto molto. Sbattendo la testa contro il muro, cercando un perché, perché... Perché loro... Non potevo più stringerle a me. È come una ferita che non si rimargina mai. Ma poi sei arrivata tu. E allora ho capito che... Che loro erano ancora qui vicino a me. Solo che io non le vedevo. Il governo mi ha dato tutto il necessario... Per studiare l'inframondo. A loro interessavano le applicazioni militari. A me interessava rivedere la mia famiglia. Mi ci sono voluti anni. Ma alla fine sono riuscito a creare questo. Ciao tesori miei. Helen. Laura. Mi mancate così tanto. Vengo a trovarle tutti i giorni. Presto saremo insieme. Sto lavorando a un condensatore modificato. In grado di comunicare con le anime dell'inframondo. Parlare con i morti, Jody. Te lo immagini? Che cosa vuoi da me? Che mi aiuti a parlare con loro. Voglio sentire le loro voci. Dire loro che cosa sto facendo. Solo finché dura la mia ricerca. Sei l'unica persona che può farlo. Nathan. No. No. Non puoi chiedermi questo. Io non sento le loro voci da quindici anni. Dal giorno in cui le ascoltai grazie a una bambina. Tu. Per favore. Jody. Fallo per me. Dammi le mani. Dammi le mani. Helen. Amore mio. Mi sei mancata tanto. Ti prego, lasciaci andare, Nathan. Ci stai facendo soffrire. Devi lasciarci andare. Devi lasciarci morire. Tu. No, Jody. L'hai detto tu, non l'ha detto, Helen. Mi stai trattenendo qui. Sono lacerate a metà tra i tuoi morti. No, non ci credo. Stai mentendo. Io so che vogliono stare con me. Loro vogliono stare con me. Stanno soffrendo, Nathan. Se tu le ami, se le ami, se le ami veramente, devi trovare la forza di lasciarle andare. Non puoi ingannare la morte. L'ingannare? La morte è niente. L'hai capito? Niente! Addio, Nathan. Spero troverai la pace. 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 Beh, ci hai messo in una situazione difficile, lo sai Non possiamo liberarti E nemmeno ucciderti Chissà cosa faresti dall'altra parte Pertanto la soluzione è una sola Ti inietteremo un neuroacido Che ti causerà un irreversibile coma Proprio come facemmo con tua madre Un discreto e elegante modo per concludere la nostra collaborazione Addio, Giordi Ti saremo eternamente grati per il tuo aiuto Giordi Tu mi hai aperto gli occhi, era talmente ovvio, ma non volevo vedere Aiutami, Nathalie Realizzerò il sogno più antico dell'umanità Nessuno dovrà mai più morire e nessuno dovrà mai più separarsi da chi ama Ma cosa? Cosa stai parlando? Il campo di contenimento Io voglio disattivarlo Io voglio disattivarlo